e vengono chiamate le prime cinque ginnastiche classificate allora al quarto posto c'è Persepo dunque, finta classificata perché è più piccola come età con punti 42.05 ginnastica Giglio, Venti, Giulia quarta classificata sempre con 42.05 Bunny Club, Pasqualini, Giulia andiamo adesso sul fondo terza classificata con punti 42.35 ginnastica Giglio, Noferi, Asia seconda classificata con punti 42.40 società coccinella Diezzi Carlotta vince la carabinetta prima classificata con punti 43.05 ginnastica Giglio un'altra... un'altra... Grazie.